Seguiamo pagine benefiche. Sono detto benefiche e non utili, perché quando pensiamo a utile pensiamo a, io faccio ingegneria per poi fare soldi, quindi l'utile è legato ai soldi. Invece io dico benefico per dire, benefico in generale, benefico per il nostro corpo, per la nostra mente, per la nostra salute. Magari appunto possiamo seguire anche pagine divertenti, perché no? Che capiremo ad esempio, va bene, cioè ci sta. Sono pagine benefiche che ci fanno ridere, ci fanno imparare, ci fanno riflettere. Le componenti di noi esseri umani, islamicamente quali sono? Sono lo spirito, la mente, noi stessi, alcol e il corpo. Quindi è giusto pensare a come migliorarci in tutti questi aspetti. Mio fratello ad esempio è uno sportivo, ama molto seguire pagine di sport, di calcio e così via. La domanda ora è, quali pagine benefiche segui? Se voi ora doveste considerare a qualcun altro una pagina interessante, utile, benefica? Quale proporreste? Islamp esperanza? Ok, sì, la conosco anch'io, la conosco anch'io, carina. Strangomilever, ok, bella pagina. Un buon ritaglio, ok. Io ho proposto questi. Sono delle proposte che io seguo personalmente, che magari consiglierei. Perché le consiglierei? Perché le consiglierei?